mezze maniche con pomodorini, olive e capperi, ricetta tanto semplice quanto saporita facciamole insieme, iniziamo per prima cosa snocciolo e divido a metà le olive di gaeta cercate di trovarle perché in questa ricetta queste olive sono il top poi taglio i pomodorini a pezzetti abbastanza piccoli, ad otto sarebbe l'ideale metto l'olio in padella, metto uno spicchio d'aglio e quando sarà dorato metto i capperi sotto sale se non li sciacquate dopo state attenti al sale subito dopo aggiungo i pomodorini, il concentrato di pomodoro doppio pizzico di sale, aggiungo le olive, copro e faccio cuocere a fiamma medio-bassa per 15 minuti a questo punto salo l'acqua e metto a cuocere la pasta un minuto prima della fine della cottura trasferisco la pasta in padella e mescolando e facendola saltare la faccio insaporire e finire di cuocere poi a fine cottura metto il prezzemolo tritato do un'ultima mescolata e guardate qua che spettacolo, è buonissima mamma mia grazie a tutti